Allora, finisce il campionato, inizia già il nuovo campionato. Il giorno dopo dei festeggiamenti della fine ufficiale della stagione di Serie A, tutti i club pensano alla nuova stagione che sta per arrivare. Il tempo sì di celebrare trionfi o di piangere su quello che poteva essere non è stato, ma già si guarda al futuro. C'è una cosa particolare che accomuna le tre grandi di Serie A, cioè il Milan, l'Inter e la Juventus. Tutte e tre sono attese da cambi epocali, tutte e tre, perché il Milan e la Juventus cambieranno l'allenatore e il presidente viene addirittura sostituito da un fondo all'Inter. Quindi, insomma, i vertici massimi, l'espressione massima di questi tre club porterà inevitabilmente delle novità, delle attese, forse delle delusioni, staremo a vedere. Allora, cominciamo con l'Inter. L'Inter non avrà più Zang, il quale Zang aveva un grande merito, secondo me, cioè ha consentito una frenata morbida ai conti dell'Inter. Una frenata morbida in che cosa ha consistito? Bisogna essere chiari da questo punto di vista. Zang ha permesso a Marotta e Ausilio di fare dei passivi ragionevoli, pian piano andando verso la parità di bilancio. Ora, non frenare improvvisamente ha consentito all'Inter due cose. Prima, di vincere. Seconda, di migliorare i conti attraverso anche i contributi economici che sono arrivati. Bisogna dire però che un fondo ragiona diversamente. Un fondo dice, a me non interessa la frenata morbida. Io voglio che già dalla prossima stagione si vada a zero. Questo poteva essere anche l'obiettivo dell'Inter di Zang nella prossima stagione, a condizione che si verificassero alcune situazioni, cioè che l'Inter facesse abbastanza strada in Champions League, che ci fossero dei riscontri positivi anche dal Mondiale per il Club. È possibile che Oktri invece sia un pochino più stringente. Ne abbiamo avuto già una prova proprio nelle dichiarazioni di Marotta. Marotta, che è una persona molto assennata, che cosa ha detto sul rinnovo di Lautaro? Il cambio di proprietà porterà a un rallentamento. Cioè, le cifre che erano state evidentemente concordate e avallate da Zang fino a sette giorni fa sono state in qualche modo rimesse in discussione legittimamente da Oktri. E su questo poi dovremo aprire una parentesi, anzi facciamola subito. Ci sono un paio di giocatori che potrebbero partire. Vi do una notizia che abbiamo anticipato proprio nella serata su cui studio a voi stadio. Mi risulta che sicuramente Teo Hernandez andrà o al Bayern o al Real Madrid. Lui preferirebbe andare al Real Madrid, ma è possibile che vada anche al Bayern. Sta di fatto che Teo Hernandez per primo preferisce lasciare il Milan e il Milan a due anni dalla scadenza di contratto, legittimamente, secondo me, gli darà via libera. Bastaremo a vedere se porterà a casa 60, 70, 80, 90 milioni. Qui è un problema di contrattazione. Ma mi pare una soluzione inevitabile nel momento in cui il signor Teo Hernandez chiede da 4 a 8 milioni di euro l'anno per poter prolungare il contratto che scadrà nel 2026. Meglio venderlo subito, trovare un grande terzino sinistro, trovare magari una parte di questi soldi, usarli per trovare un attaccante importante, magari per permettersi un attaccante non più da 40, 50 milioni di euro, ma da 70, 80, 90 milioni di euro. Non tutti i mali vengono per nocere. E quindi è legittimo, comprensibile e giusto che in questa situazione in cui versa il campionato italiano, gli incassi dei club e anche la gestione dei fondi, che vada via Teo Hernandez per una cifra ragionevole prima che poi finisca a parametro zero. Ecco, analogamente, se Lautaro non prolunga, anche lui ha la scadenza nel 2026, e se dovesse arrivare un'offerta importante per Lautaro, 120, 130, 140 milioni di euro, sarebbe giusto, inevitabile e comprensibile che l'Inter del fondo americano OCTRI, come il Milan del fondo americano Redbird, dicesse va bene, facciamolo andare via. Tanto lui non prolunga, ci chiede troppi soldi. Se Lautaro vuole 11-12 milioni di euro l'anno, inevitabilmente, tra parentesi è la cifra che guadagnerà Blauvić, ecco perché poi chiedono altrettanto, Lautaro ha fatto meglio di Blauvić in questi ultimi anni, è inevitabile e giusto e comprensibile che anche lui andrà via e ci saranno degli investimenti da questo punto di vista. Questo è il grande cambio epocale nell'Inter, perché è probabile che Zang, anche perché sapeva che poi i debiti non li avrebbe pagati lui, alla fine Zang aveva dato degli indirizzi diversi. Zang ha accontentato in qualche modo tutti i calciatori dell'Inter che hanno voluto dei cospicui aumenti di stipendio in questi ultimi anni. Vi ricordo Brozovic, vi ricordo Barella, vi ricordo Lautaro, insomma tutti sono passati in qualche modo a battere casse e hanno avuto soddisfazione. Non sarà più così come prima, questo mi pare evidente e anche comprensibile. Stavamo dicendo invece del Milan. Nel Milan c'è una situazione abbastanza bizzarra che è stata ben espressa involontariamente dal tweet, dal messaggio di Ibrahimovic. Ibrahimovic si è fatto fare una bella fotografia, ha seduto un po' stravaccato sulla panchina deserta del Milan e sopra ha scritto 4-3-3, che come sapete è un modulo, probabilmente il modulo più gradito al Milan per il prossimo allenatore. Ecco qui c'è da dire qualcosa di interessante, cioè non si capisce che cosa volesse significare Ibrahimovic con questa fotografia. I casi sono due. Qualcuno sostiene che lui semplicemente volesse giocare con i social come ha sempre fatto. Ecco, se fosse questo non va bene Ibrahimovic, perché evidentemente ha un ruolo diverso. Forse lui ancora non l'ha capito, ma da quando lui è stato designato da Cardinale come suo uomo, sua espressione fisica anche, psicologica, mentale, intellettuale all'interno del Milan, vi ricorderete la famosa frase, dove sarà Ibrahimovic come se ci fossi io, ecco lui non può più permettersi di giocare con i social, perché ogni suo sospiro, ogni sguardo, ogni silenzio verrà interpretato come qualcosa che riguarda direttamente il Milan. Non puoi più solo pensare a te stesso, devi pensare in una categoria più grande. Ecco, la fotografia di Ibrahimovic, quindi, che scrive 4-3-3 seduto su una panchina deserta, che è quella attualmente del Milan, se è un gioco, è un gioco pericoloso o sbagliato. Se è un messaggio, è un messaggio che bisogna cercare di interpretare. Significa che il prossimo allenatore del Milan fa uno scrupoloso 4-3-3, Sarri, dico un nome che non è mai stato preso in considerazione, che non sarà, è un modo per allentare un po' la tensione, insomma, di questi tempi, credo che non sia il caso di scherzare con i tifosi del Milan, che sono legittimamente preoccupati sulle scelte societarie, scelte che, peraltro, mi permetto di dire, se dovesse essere, come sembra, indirezzate su Fonseca, sono tutto sommato legittime. Fonseca è un buon professionista, il Milan vuole un allenatore che non crei troppi problemi al conducente, che non è l'allenatore, ma è il presidente proprietario, più che il presidente, e quindi Fonseca mi sembra rientri in un reggio ragionevole di esperienza, di discreti risultati, certo non è l'allenatore che fa sognare. Spesso e volentieri l'allenatore interpreta un sogno dei tifosi, il sogno dell'allenatore col gioco brillante, il sogno dell'allenatore invece sergente di ferro, che vince a tutti i costi. Ecco, Fonseca, no, un allenatore, diciamo, normale, ma era normale anche Pioli quando è arrivato, oppure nella sua normalità ha fatto delle cose buone, quindi mi sembra che tutto si debba fare, se si vuole bene nel Milan, forché sparare su Fonseca prima ancora che abbia cominciato a suonare la sua musica. Concludiamo con la Juventus. La Juventus ha questa particolarità, manca un po' di personalità sui tifosi più di pancia attraverso i suoi dirigenti. Questo è un problema che riguarda anche il Milan, no? Cioè, laddove in qualche modo Zanga nell'Inter aveva interpretato il giovane presidente, però con grandi entusiasmi, che si faceva vedere fin quando potuto, Marotta è il dirigente di grandissimo carisma, Ausilio, ormai è un uomo Inter riconosciuto come tale. Ecco, noi troviamo che la Juventus e il Milan hanno invece problemi completamente opposti, cioè faticano a trovare un simbolo. Ci ha provato il Milan inserendo a forza, dopo l'addio di Maldini, Ibra, che però, come dicevamo prima, ha interpretato la parte in maniera ancora, secondo me, un po' troppo personalistica. Nella Juventus c'è un problema del tutto analogo, e cioè, con tutto il rispetto, il presidente della Juventus, l'amministratore delegato della Juventus, Ferrero Scanavino, non sono nomi che scaldano i cuori dei tifosi, non sono capaci, perché non hanno quel carisma, quell'esperienza, quella storia nel calcio per poter scatenare gli entusiasmi. Lo era in qualche modo allegre, anche se poi ha scatenato tanti entusiasmi, quante insofferenze nella tifoseria. Ecco perché mi pare che la scelta di Tiago Motta sia una scelta intelligente e cioè, nel momento in cui tu non vuoi, non puoi saggiamente, forse anche reinserire un personaggio ingombrante come Del Piero all'interno della società, perché Del Piero è una persona molto intelligente, ma anche molto furba, molto polarizzante, vorrebbe una società tutta a sua immagine e somiglianza, prendere uno come Tiago Motta, che mi sembra che abbia il carisma, la personalità, anche la furbizia di governare i sentimenti dei tifosi, dei club e mi pare una mossa particolarmente intelligente. Certo, Milan, Inter e Juve, per ragioni diverse partono tutte e tre con delle incognite. L'incognita del presidente, l'incognita di un allenatore che deve ancora arrivare, che sarà un allenatore straniero, e l'incognita di un allenatore che deve ancora arrivare, che è molto giovane e che quindi dovrà fare una parte doppia, tattica e carismatica nei confronti del club. Su queste tre incognite si giocherà la prossima stagione, oltre che naturalmente su un calciomercato che, come abbiamo detto, sarà pieno di colpi di scena, purtroppo più in uscita che in entrata, il primo dei quali, vi abbiamo annunciato, ci risulta essere l'addio di Teo Hernandez al Milan. Un addio che certamente apre un problema nella fascia sinistra, come l'ha aperto Tonali l'anno scorso al centrocampo, ma che potrebbe portare al Milan tanta liquidità per costruire una squadra completamente nuova, con un allenatore nuovo, una squadra che potrebbe essere, a sorpresa, anche una squadra vincente. Staremo a vedere, sarà molto interessante. Grazie.